I titoli esteri che pagano dividendi possono aumentare la diversificazione di un portafoglio e fornire esposizioni alle economie emergenti a più rapida crescita. Tuttavia la maggior parte dei governi nel mondo vuole la propria fetta, il loro taglio in termini di tasse quando vengono erogati e pagati i dividendi. Anche l'Italia, come con gli Stati Uniti e tante altre grandi elezioni del mondo ha un'imposta sui dividendi con dettagli precisi di quanto devi pagare, quali sono anche gli accordi bilaterali che ci sono fra le varie nazioni e così via. Oggi volevo approfondire questo discorso dicendoti anche in quali tante nazioni del mondo non si pagano tasse sui dividendi e ti do un elenco che dire esaustivo è dir poco. Ciao a tutti e bentornati sul canale io risparmi, io come sempre sono Pasquale il vostro investitore e risparmiatore della porta accanto nonché educatore finanziario AIF ed autore del libro da meno 35.000 a 0 in 18 mesi libro del quale puoi trovare il link qui sotto in descrizione nel caso tu lo volessi acquistare dove ti vado a raccontare la mia personalissima esperienza da addebitato seriale a risparmiatore ed investitore incallito. Molto spesso quando si fa stock picking si trova un'azienda fantastica in salute che paga dividendi straordinari, che ha una crescita degli stessi paurosa nel tempo e che ha il prezzo delle proprie azioni che cresce in maniera costante ed esponenziale nel tempo. Ma poi facendo due conti se si è come me un investitore da dividendo ci si rende conto che la doppia rassazione va ad erodere una parte molto importante di questo dividendo e per cui a volte si demorde. Ma posso assicurare che è una questione mentale e ne vado a discutere in questo video i motivi. Ma se io non riuscissi a convincerti ti volevo solo ricordare che comunque al mondo esistono almeno una ventina di nazioni che hanno una tassa sui dividendi che pari a 0% per cui a te basterebbe solo pagare il nostro 26% italiano. Ma andiamo per ordine. Partiamo dal mio punto di vista. A mio parere se si investe per il lungo periodo questo discorso non ha senso di esistere. Perché se si compra un'azienda per tenerla per sempre e si sa che questa ha i conti in ordine, dividendi in crescita e costanti e una graduale salita del prezzo delle azioni, possibilizzarsi sul fatto del perché invece di 5 euro di dividendi, cenenti di non solo 4, ha veramente scarsa di relevanza. Il nostro yield non costa nel momento che l'azienda continuerà ad aumentare il suo dividendo e il suo valore sui mercati non ci farà d'impiangere fra 10 anni il fatto di averla acquistata a un dividendi dal netto della doppia tassazione che sia minore di un'eventuale azienda italiana. Se si vuole investire nel lungo termine, come sempre si dice, come penso anch'io, ci si deve considerare proprietari di un'azienda prima di considerarsene investitori. Se si tralascia questo presupposto il contesto dell'investimento a mio parere va a decadere scemando nella semplice speculazione o peggio ancora di una comprensione solo parziale di come si debba veramente andare a investire. Lascia a voi a fare le vostre opportune valutazioni e considerazioni o autocritica personale. Detto ciò anche in Italia si trovano ottime aziende ma purtroppo sulla bocca dei molti si sentono sempre ripetere le stesse grandi aziende da lasciando quelle che magari piccole possono dare molte più soddisfazioni. Detto ciò è anche vero il contrario, non è detto che tutte le nazioni che offrono tassazione al dividendo zero siano effettivamente convenienti. Per questo menzionavo poco fa che bisogna essere investitore di dividendi e non speculatori degli stessi. Molti governi trattengono automaticamente le tasse sui dividendi pagati agli azionisti non residenti da società costituite all'interno dei loro confini. Di conseguenza in Italia come in una qualsiasi altra parte del mondo gli investitori che possiedono azioni nella maggior parte delle società straniere vedano una parte del loro pagamento di dividendi trattenuta dal loro broker. Dall'importo rappresenta la ritenuta d'acconto estera sui dividendi, un po' diciamo un frontiera, un costo frontiera. La liquida della ritenuta d'acconto straniera sui dividendi può variare notevolmente in tutto il mondo. Alcune delle società di dividendi esteri più popolari, comprese quelle con sede in Australia, Canada e alcuni paesi europei, hanno tassi di ritenuta d'acconto piuttosto elevati compresi fra il 25% e il 35%. Per IUS abbiamo un trattato bilaterale che permette tramite la compilazione di un modulo di ricevere trattenuta alla frontiera decurtata della metà dal 30% al 15%. Questo significa che non vale la pena di investire in società domiciliate in queste nazioni sviluppate ad alto dividendo? Non necessariamente abbiamo bisogno di poter valutare il proprio capitale, le proprie linee temporali di investimento e la necessità che sia di nostro interesse più un flusso di cassa colposo fino all'inizio o meglio un mix fra capital gain e dividendo. Detto ciò ecco una situazione non esaustiva delle tassazioni del mondo ma molto ampia a cui ovviamente si deve andare ad aggiungere la nostra tassazione italiana che ovviamente come tutti ben sappiamo è al 26%. Partiamo dalle nazioni che hanno tassazione zero sui dividendi. Abbiamo il Byron, il Brasile, la Cina offshore, Cipro, Estonia, Hong Kong, Ungheria, Giordania, Kuwait, Lettonia, Malesia, Malta, Mauritius, Oman, Palestina, Qatar, Singapore, Sri Lanka, Turchia solo per quanto riguarda gli investimenti dei Ritz turchi, Regno Unito ma solo per aziende che non siano Ritz, poi abbiamo gli Emirati Arabi Uniti e il Vietnam. Come si può vedere ad aliquità zero sui dividendi possiamo trovare tantissime nazioni del mondo in diversi continenti. Non tutte queste sono nazioni succulenti dal punto di vista economico ma sicuramente alcune possono essere molto interessanti. Tra questo ovviamente oltre al famosissimo Regno Unito sicuramente avrei molta voglia di analizzare dal mio punto di vista Brasile, Hong Kong, Estonia e Singapore. Ma non è detto che bisogna andare per forza su una liquida zero. Per esempio si possono vedere paesi con liquide molto basse diciamo tra il 5 e il 10%. Cosa ci troviamo? Tra le nazioni con delle tassazioni a 5% sui dividendi esteri troviamo Bosnia, Bulgaria, Georgia, Grecia, Perù, Romania e Arabia Saudita. Personalmente non conosco a pieno nessuno di questi mercati e per cui se dovessi decidere andrei con molta probabilità a investire attraverso un ETF. Ma per chi ha una profonda conoscenza di uno o più di questi mercati o di uno o più di aziende presenti in questi paesi sicuramente avere una fonte di tassazione di aliquota al 5% sui dividendi di tassazione diciamo netto frontiera può essere quasi come averle al 0%. Poi andiamo sulle nazioni che hanno tassazione al 10% in cui vi troviamo il Botswana, la Cina continentale, il mainland, la Colombia, la Costa d'Avorio, la Croazia, l'Ecuador, l'Egitto, il Libano, la Macedonia, la Malesia per quanto riguarda solo la questione dei Ritz, il Messico, la Nigeria, il Panama, Singapore solo per quanto riguarda i Ritz, la Tanzania, la Thailandia, Trinità, Tobago, Tunisia, Turchia e Zimbabwe. Da menzionare anche il Montenegro che ha una stranissima tassazione che non ha nessun altro di quei paesi menzionati che è al 9%. Ma ovviamente a casa proprio ognuno fa quello che vuole. Sicuramente da questo punto di vista le nazioni più appetitose sono a mio parere la Cina, il Messico, i Ritz di Singapore e ci aggiungerei anche a mio personale parere la Croazia. Passiamo poi alle nazioni che hanno una tassazione al 15%. Abbiamo il Kazakistan, il Kenya, la Lituania, Lussemburgo, Malawi, Marocco, i Paesi Bassi, il Pakistan, la Papua Nuova Guinea, la Russia, se si può investire ancora, Rwanda e Ucraina. In questo contesto le nazioni dell'Aperele sono quelle a cui fideremo molto delle mie speranze per cui mi riferisco principalmente a Lussemburgo, Lituania e Paesi Bassi. Ma per i profondi conoscitori del mercato africano anche il Marocco potrebbe essere una nazione da puntare. Ovviamente non ricordo gli Stati Uniti in questo contesto perché lo sappiamo tutti che per noi italiani la tassazione è agevolata a 15% e l'ho anche menzionato all'inizio del video e poi soprattutto è la nazione più importante di cui investire nel mondo. Andiamo a menzionare le nazioni invece che hanno una tassazione al 20%. Abbiamo il Bangladesh, l'Islanda, l'India, l'Indonesia, il Giappone che però è al 20,42%, la Namibia, la Serbia, il Sudafrica, la Spagna che però è al 19%, il Regno Unito ma solo per i Ritz e lo Zambia. Anche qui nazioni interessanti se ne cominciano a vedere a bizzeffe. Alcune sono anche economie di un certo tipo che promettono di poter rendere anche oltre ai dividendi il capital gain. Passiamo alle nazioni che hanno la tassazione al 25%. Vi troviamo il Canada, la mia amata Irlanda, la Norvegia, le Filippine, il Portogallo, il Taiwan che però è al 21% e la Corea del Sud che però è al 22%. Anche qui si continua a vedere un pattern. La maggior parte delle nazioni che sembrano promettere forti rendimenti sia di dividendi ma anche in termini di crescita economica più strutturata cominciano ad essere maggiormente presenti al di sopra del 15%. Chiudiamo la lista con le nazioni che sono al di sopra del 25%. Le nazioni con la tassazione al di sopra del 25% ci troviamo l'Australia che è il 30%, l'Austria al 27,5%, il Belgio al 30%, il Cile al 35%, la Repubblica Ceca al 35%, Danimarca al 27%, Germania al 26,5%, Jamaica al 33%, Messico ma solo i Ritz al 30%, la Nuova Zelanda al 30%, la Slovacchia al 35%, Svezia al 30%, Svizzera al 35% e le Venezueli al 34%. Come dicevo all'inizio del video non bisognerebbe investire in dividendi solo guardando quella che è la doppia possibile tassazione su di essi. Andate a guardare Lorenzo di investire in borsa a caccia di dividendi di tutti i risultati grandiosi che ha ottenuto e sta ottenendo con costanza, pazienza e dedinzione e non pensate che abbia investito meno in un'azienda o in un paese o in un altro solo perché aveva una tassazione minore rispetto alle altre. Bene se questo video è stato di tuo gradimento ti chiedo per favore di supportarmi veramente con poco lasciando un bel pollice in su per l'algoritmo YouTube per fare crescere me su questa piattaforma. A te costa il battito di ciglia ma per me significa veramente il mondo. Se poi sei nuovo su questo canale ti chiedo la cortesia di iscriverti e di cliccare la campanella delle notifiche affinché tu non possa rischiare di perderti e su un contenuto che viene pubblicato successivamente. Bene anche per oggi è tutto e noi ci vediamo un prossimo video. A presto ciao!